E' chiaro che lo spaccio e il consumo di costanti superfacenti si porta con sé poi tutta una serie di reati perché alcuni reati di criminalità diffusa spesso sono collegati alla necessità che hanno i consumatori poi di poter avere quello che serve per acquistare quotidianamente la sostanza superfacente del risetto. E' una spirale che trascina verso il basso direi. Che ha bisogno di un approccio che è un approccio multistituzionale, nel senso che le forze di polizia fanno la loro parte ma è chiaro che se non si mettono assieme tutti i pezzi, tutti i segmenti della società che dovrebbero affrontare, quindi le scuole, la famiglia che è il primo baluardo, sarà difficile riuscire a debellare questo fenomeno. Quindi ci vuole uno sforzo. Devo dire che insomma il territorio di Monza è un territorio però nel complesso per uno come me che arriva alla realtà di Milano, la grande metropoli, è un territorio su cui si può lavorare bene. Ci sono tutte le condizioni sociali ma anche per il livello di collaborazione che c'è a livello istituzionale per fare bene. Ecco perché vorrei che la presenza delle forze di polizia e in primis della polizia di Stato possa crescere. perché si percepisce questo bisogno di sicurezza. Devo dire che in questo la stampa e i Basmedia in generale hanno un ruolo importante. Quindi una comunicazione, non lo dico perché sono qui, ma misurata, equilibrata, che mi sembra sia la cifra del vostro modo, di Monza e in fianza di music, di fare giornalismo ci aiuti. Perché è chiaro che la ricerca del sensazionalismo, la ricerca della notizia d'effetto, l'enfasi che magari fa perdere in vista i fatti, il fatto della loro, della sua oggettività, poi produce nel lettore, nel cittadino, quell'effetto, come dire, un po' distorsivo della realtà. Per cui assistiamo a questa forbice, per cui abbiamo dati che testimoniano un costante cambio di risultati, è un aumento della tendenza di depressione, è una percezione dell'insicurezza che cresce. Questo evidentemente è chiaro. Ma voi avete dei progetti condivisi con le altre forze dell'Ordine per quanto riguarda... Io devo dire che uno dei punti di forza di questa realtà è intanto l'intesa perfetta che c'è con il prefetto, Paglisani, con il quale condividiamo tutte le strategie per implementare i livelli di sicurezza sul territorio. E quindi da quell'attività di coordinamento che il prefetto istituzionalmente svolge, il quale sottolineo c'è una perfetta sintonia. Questo è un qualche cosa non sempre scontato. Le due autorità provinciali di pubblica sicurezza, quella tecnica operativa e quella che ha un taglio più politico e amministrativo, devono lavorare assieme perché così la legge vuole. Essere in sintonia anche sul piano personale fa sì che poi gli obiettivi siano realmente condivisi e quindi poi ci si possa attivare. Anche con le forze di polizia, con l'arma dei carabinieri in particolare, ma anche con l'arma di finanza. Per non parlare della polizia locale di Monza che è un corpo importante, insomma, in assoluto a livello lombardo è una delle polizie locali più significative in quanto a capacità operativa. E in generale con le polizie locali della provincia c'è un rapporto di collaborazione molto valido. Sottolineo, ripeto, quello con l'arma dei carabinieri perché siamo le due forze di polizia a competenza generale, e devo dire che a partire proprio dal rapporto che si è creato con il comandante provinciale, il comandello Pacione, in generale insomma con tutta la struttura che dipende da lui, c'è un'ottima forma di coordinamento. Poi la mia aspirazione proveniente da Milano, io ho diretto lì per alcuni anni l'ufficio di prevenzione generale, era attuare un piano di controllo coordinato del territorio, sullo stile di quello milanese, dove c'è una suddivisione del territorio che prevede alternativamente la presenza di una o dell'altra forza di polizia in via esclusiva. E questo evita l'accavallamento delle risorse nella stessa zona, nella stessa fascevata. Per fare questo però devono crescere gli organici perché significa avere in campo, sulla strada, un numero di equipaggi che ti garantiscano sempre la copertura senza intervenire fattori. Quindi nel momento in cui sarà cresciuto il nostro organico una delle forme da attuare sarà sicuramente questa. Oggi esiste un coordinamento ma la mia idea sarebbe di attuare un piano di unificazione vera che peraltro poi consente anche di vigilare sul territorio, suddividendosi anche gli obiettivi che ci sono sul territorio. perché c'è anche poi la garantia e la vigilanza a obiettivi sensibili e alle attività che sono a rischio fenomeno urinale, ecc. E questo è sicuramente un obiettivo che mi ero posto appena arrivato a Monza e che non ho perso di vista, ma per i quali ovviamente occorrono le risorse.